Vedi che ha le braccia, spingi via il tassetto, vai, spingilo via, spingilo via, nuova, ok, braccia tese, braccia tese, e la tengo, ok, e la tengo, vai, schiacciatissime, ok, andiamo, ringa, si brava, fallo lì, gambe tese, ringa, ok, panza stretta, Ora, tieni, 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 a fondo, a fondo lunghissimo e teni, ok, questo è fondamentale, spalla, bacino, ginocchia, caviglia, ok, tieni, vai, piegata, ok, rigorosamente, vai, non metti le perle divaricate nella ruota, ah no, no, a tese, pancia strette, tienila, allunga le mani, ok, quindi il tuo piede, il tuo cuoco e il tuo cuore, ora tutte e tre, stai 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 angi stai ancora bravissima perché perché allora loro in realtà gambe tese è giusta questa oli fino a che riesci a tenere la gobba bravissima scorno fino a che riesci a tenere la gobba ok brava spiega gobba bene e stendo bravissima di nuovo gobba bene e stendo e stacco la destra di nuovo giù e stendo e stacco la destra brava questa è la giusta bravissima di nuovo vai con l'altra stendo e stacco il finito no qua siamo ancora lei ha tirato sulla piglia ma lei ha tirato sulla piglia ma lei ha tirato l'altra ma maravissima questo è un po' si prepara prima brava passo diego passo lì stendo la gamba gamba e stacc ma stella maniera 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 questo è il partito piano fermati di cui io potrei girare ecco il miglio piegata quella sotto bravissima sì sì ho capito guardate che il problema più è che non vengono guardate guardatemi ragazzi vedete che la faccio da mano allora io la faccio corregge per risale e mezza ruota ora scendi normale ora arrivo normale